E' un'affezione tra le più diffuse, la seconda diagnosi dopo l'ipertensione, la diagnosi principale di presentazione al medico di medicina generale, cioè perché ha un accesso molto frequente per questo tipo di problemi. Quindi mediamente troviamo assistere a meno due pazienti, ma sono stato troppo buono, non sono due, sono quattro o cinque, dipende poi anche da... La coxartosi, la organizzazione con maggior frequenza, determina invalidità, questo è la TIMS, è quella più invalidante dal punto di vista. Queste sono le sedi, che praticamente ha detto anche la dottoressa Garbaglia, come vedete non è che questo è diviso su 100%, no? Cioè fa di più perché hanno più localizzazione le persone, non solo una localizzazione. E qual è il ruolo professionale? L'elevata incidenza e la prevalenza del problema rende il medico obbligato a occuparsi del paziente con dolore da malattia degenerativa. Dall'aspetto preventivo a quello diagnostico, clinico a quello terapeutico, a quello prognostico. Cioè è un compito proprio del medico di medicina generale, anche perché con questa moda di lavoro non può essere diversamente. E qui, quindi la prevenzione, con questa vecchia vignetta di Marco Longo, mi è sempre piaciuta e io l'ho riportata, cioè l'attività fisica, la posizione corretta, la riduzione del peso, le solite cose che sappiamo, dove magari dedichiamo poco tempo, ma non noi, è il cittadino che pensa di trovare la soluzione nella medicalizzazione farmacologica o di altro tipo e poco si impegna lui a prevenire e a mantenere le sue funzioni. Il medico dovrà inoltre occuparsi delle limitazioni funzionali che se spesso comportano, complessiva riduzione dell'autonomia, della capacità lavorativa e di altri aspetti che in questi casi accompagnano questo problema. Depressione, ansia, senso di insicurezza, isolamento sociale o altro. A volte un paziente artrosico che ha molto dolore è un paziente di difficile gestione, più che il depresso, dico io. È quello che è un frequente da attendere nei nostri studi e che porta continuamente problemi e vuole una risposta alle sue problematiche. Questa, lo metto ieri, malattia rigenerativa inguaribile, oggi processo dinamico essenzialmente rigenerativo, cioè per dire che tutto sommato qualcosa si può fare, perché anche l'atteggiamento del medico a volte è sbagliato. Lei signora ha l'artrosi, cosa possiamo fare? Ha 80 anni, cosa possiamo fare? Non è questa la risposta che dobbiamo dare, ma noi dobbiamo prenderci cura, perché è una nostra missione non solo curare, ma prenderci cura della persona, che è quella che ci dà i migliori risultati. Quindi quali sono i bisogni? Sono perché c'è l'alta frequenza, c'è l'editorialità di gravità e gravosità, c'è il paziente con diagnosi solo radiologica, noi vediamo radiologicamente ma moltamente non ha i sintomi, l'imaging non corrisponde alla clinica, rimane l'imaging, non è soltanto. Veri artrosi con diversi gradi di inabilità, pazienti che vanno sempre e solo dallo specialista, pazienti che continuano a cambiare specialista, perché non trovano una soluzione adeguata ai propri problemi, cioè girano di qua e di là finché non trovano. Artrosisi che oscillano tra medicine alternative e cure convenzionali, perché c'è il rimedio miracoloso che ho visto in internet, che la fa l'amica, eccetera. soggetti che vanno sempre cicli di fisioterapia senza alcuna razionalità e con effetti velo più prossimi a quelli del placebo. Mi voglio spiegare su questo. Non che la fisioterapia intesa come le macchinette non sempre sono la soluzione, se invece la fisioterapia è riabilitazione, cambiare le posture, mettere in funzione l'attivazione, allora ben venga, questa è la vera fisioterapia. Pazienti che desiderano proprio la malattia, malati che vanno spesso dal medico per questi disturbi, e il paziente però desidera spiegazioni sul suo dolore, e quindi rassicurazione. Cioè bisogna perdere un po' di tempo per spiegargli quello che succede, come può migliorare, se fa diversamente o meglio. Allora, quale è specialista per le malattie degenerative o osteoarticolari? E qui un'altra vignetta di Marco Longo, che è questa. Allora il medico di famiglia, oppure il reumatologo? Ma il reumatologo, anche perché quando facciamo le linee guida, dicono che l'artrosi non gliela dobbiamo mandare. Noi dobbiamo mandarle soltanto le malattie infiammatorie, cioè quindi fare diagnosi differenziali fa malattie infiammatorie importanti, e più invalidanti tutto sommato, ma mi viene di citare sempre un lavoro fatto su questione dei pazienti, il paziente artrosico è quello che si lamenta di più rispetto a quelli che hanno le malattie più importanti. E la spiegazione c'è, perché chi ha una malattia importante come l'artrite reumatoide, psoriasica, eccetera, che tipo, viene preso in cura molto di più di chi ha l'artrosi. Da un punto di vista viene preso, come col discorso che dicevamo, prendersi cura piuttosto che curare, rispetto invece a pazienti che hanno malattie importanti e che sono seguiti in un certo modo e gestiscono meglio la loro malattia. Poi dall'ortopedico dovremmo mandarlo quando pensiamo che ci sia una indicazione chirurgica. E dirò, mi diranno anche loro, non troppo tardi a volte. Il motivo è questo, se io devo mandare uno a fare una protesi d'anca, lo mando il prima possibile, nel momento in cui lo avevo operato, perché le protesi vanno bene, è una, come ha detto il collega prima, un'articolazione molto chiusa, quindi funziona benissimo. Sul ginocchio ho qualche problema, anche se adesso siamo migliorati negli ultimi tempi, e quindi cerchiamo di arrivare quando effettivamente ce n'è bisogno, quando dal punto di vista meccanico. Poi dal fisiatra, come dicevo io, per fare le terapie riabilitative. Quando vedo questa vignetta, allora mi viene da dire velocito, quando vado una volta a casa di un paziente, e quando entro in camera da letto, passando dalla porta, c'era come un cappio, dico, ma cosa fai? Beh, ogni tanto mi faccio le trazioni. Si appendeva, cioè voglio dire, no, allora mi rimetto, quando gli stilefavano, però, no, un certo beneficio. Bisogna il problema di, allora, conoscenza dei provvedimenti chirurgici, per rispondere ai quesiti del paziente, per controllare nel tempo l'esito dell'intervento. Cosa vuol sapere da noi lo specialista, e cosa lui ci deve comunicare? Questo è un noccio importante, perché la comunità, territorio ospedale non sempre comunica in modo giusto, e invece sarebbe bene che i professionisti si mettessero intorno al tavolo e capire anche che cosa vogliono sapere da noi prima dell'intervento chirurgico, e cosa noi dobbiamo sapere da loro per poter fare un percorso per il paziente che dia dei benefici. Quindi ci vuole una corretta diagnosi, un'accurata programmazione terapeutica, monitoraggio nel tempo, controllo dell'efficienza terapeutica e gli eventuali effetti collaterali dei farmaci, e quindi adesso entro, però sto fermandomi sulle cose che non sono state toccate. Allora, terapia dell'artrosi, questa è la stessa diapositiva che aveva la dottoressa Barbaglia, però gli obiettivi sono educare il paziente, alleviare il dolore, perché noi lo dobbiamo alleviare il dolore, perché la qualità di vita di questi pazienti è importante. Come vedremo anche usandogli oppiace, piuttosto che tenerlo a letto, io devo capire che cosa devo dare a quel paziente. Cioè, voglio un paziente allettato sempre o un paziente che almeno le sue funzioni riesce a farlo in qualche modo. Revenire e ritardare la progressione della malattia, supporto sociale, programmi di autogestione, controllo del peso corporeo, terapia fisica, riapreativa, medicine non convenzionali. Supporto sociale è importante, anche perché, e anche, come dico io, percorsi sul territorio. Perché i miei pazienti anziani che decidono di frequentare anche un centro sociale, migliorano anche sui suoi sintomi, il fatto di fare la ginnastica dolce, che si lanciano la palla, fanno piccoli movimenti. Il problema però è che anche il territorio deve essere pronto ad accogliere pazienti con questo tipo di patologie e dargli delle risposte. Questo è tutto quello che si può fare dal punto di vista farmacologico. Abbiamo visto i FANS, barocetano atopici, sintomatici, accelerazione lenta e quelli che modificano la struttura, appunto interrogativo, perché ancora solo in vitro e non in vivo si è visto gli effetti della glucosamina su questo. Questo è l'eolar cosa dice? Il paracetamolo è il farmaco da considerare di prima scelta. Mi raccoma, il dosaggio non deve essere minore di 3 grammi o uguale a 3 grammi. A queste cose il paracetamolo può anche essere adoperato in aggiunta ad altri farmaci per l'artrosi con un buon profilo di sicurezza. Nella pratica clinica il paziente dice più delle volte il paracetamolo non mi fa niente. C'è da dire che non lo usa nel dosaggio giusto, almeno 2 grammi al giorno e poi per un congruo periodo, perché il problema è anche questo. Questo, se c'è stato questo alert sul fatto dei reni, e quindi per questo sebbene il paracetamolo sia il risultato debolmente associato allo stato finale di malattie renali, Foundation raccomanda come farmaco di scelta nell'analgesia. Cioè, c'è stato fatto che in chi ha problemi renali abbastanza importanti, potrebbero non usare il paracetamolo. I FANS vanno presi in considerazione nei pazienti che non rispondono, come ha detto il paracetamolo. I pazienti con rischio gastrointestinale dovranno essere utilizzati con Cibo oppure i FANS. La terapia dell'artrosi richiede comunque l'utilizzo simultaneo di misure sintomatiche adeguate alle condizioni cliniche del momento. I FANS sono rilevati da tempo utili in attenuare alcuni sintomi dell'artrosi quali il dolore a riposo in misura minore di dolore e movimento. La storia naturale della malattia non viene modificata da questi farmaci. Però facciamo un piccolo ragionamento. Noi abbiamo fatto una flush art fatta in questo modo. Io do il FANS per i primi tre giorni. Se il FANS funziona continuiamo perché molto probabilmente c'è un fatto infiammatorio. Perché altrimenti i primi tre giorni ha funzionato agito solo sul dolore ma non sull'infiammazione. Se c'è un'infiammazione come dico io e l'artrosi non per niente gli anglosassini chiamano artritis proprio perché c'è la forma infiammatoria io devo limitare gli episodi infiammatori se non voglio vedere i peggioramenti. Quindi con tutti per questo dico che i FANS è importante usarli bene ma vanno usati con il dosaggio giusto per il periodo giusto. Quindi individuare la molecola in base al paziente sicuramente se un paziente anziano userò quelli ad emivita breve non ad emivita lunga per evitare alla sua gastrolesovità la personalizzazione del dosaggio perché se uno fa fatica alzarsi provo a dargli più dosi alla sera rispetto al mattino non associare due molecole diverse io lo metto sempre questo perché ancora lo vedo nella pratica clinica prescrivere due antinfiammatori con nomi diversi ma sono due antinfiammatori cautela nei pazienti ipertesi nefropatici anche lievi e scompensati è chiaro che qui il problema noi ce lo poniamo a livello gastrico per brevi periodi non serve secondo me una gastroprotezione se uno non è a rischio perché i problemi proteggiamo lo stomaco e se lo prendiamo abbiamo problemi all'intestino ma soprattutto a livello renale il problema è se sono ipertesi che hanno dei picchi ipertensivi a livello renale per preservare il reno questa anche se è datata del 98 la metto perché è bellissima da vedere se io penso l'emorragia da Fanz vi ricordate dove c'è l'indometacina la vecchia indometacina che è un ottimo antinfiammatorio malgrado lo so però guardate il chetoralac è questo che vedo associato perché questo viene dato come antidolorifico e associato ad un altro antinfiammatorio questo è il più gastrolesivo che ci sia e poi l'altro è il piroxicam al secondo posto voi pensate che oltre alla gastrolesività il piroxicam rimane in circolo tre giorni nel presente anziano tre giorni e più cosa vuol dire questo? che sicuramente le lesioni sia a livello gastrico sia a interferire con gli altri farmaci sicuramente sono importanti poi sul paracetamolo alcuni miti disfatati inoltre perché dice un'associazione tra assunzione di paracetamolo è un rischio aumentato di insorgenza d'asma c'è non è che sia un'associazione tra assunzione di paracetamolo è un rischio di comparsa di ipertensione che a dosaggi superiori a 2 grammi viene aumento del rischio adesso che abbiamo un paziente in tau è uno dei farmaci che dobbiamo dare però a 3 grammi per un po' di giorni interferisce anche lui perché si è visto come diceva giustamente la dottoressa che molto più agisce anche sulle cox quindi anche un effetto antinfiammatorio non soltanto antitolorifiche e poi qualcosa sulle applicazioni topiche gli studi sono tutti sulla capsaicina le linee guida NICE dicono che l'artosi del ginocchio va trattato con la capsaicina io in Italia non ho mai provato paracetamolo e capsaicina locale ma comunque io i risultati non li ho mai visti da questo punto però gli anglosassoni hanno messo il NICE li consiglia questo e quindi qui dice che le prove di efficacia in attesa sono la capsaicina quella che funziona a livello io dico che la mia esperienza di vita pratica funziona nelle tendiniti dove c'è una componente dei tendini più che altro o di articolazioni molto superficiali e qualcosa sugli opioidi gli analgesi opioidi con o senza paracetamolo rappresentano utili alternative e possono costituire i farmaci supporti dei pazienti i cui fans sono controindicati però la scelta di analgesi opioidi dipende dall'età del paziente dalla presenza di eventuali malattie comunitari degli altri farmaci assunti bisogna pensare quante interazioni farmacologiche ci possono essere questi sono gli effetti quali più comuni ma soprattutto la stipsi quindi prevenirla quando lo diamo il trattamento perché già questi pazienti molto probabilmente l'hanno di sua la stipsi se diamo un farmacopioide sicuramente questa aumenta e poi per evitare gli errori nel dare i farmaci basta non dare il farmaco sbagliato la dose sbagliata il giusto tempo il paziente e anche la nostra cultura su questo una carrellata sui doa sui cosiddetti farmaci di fondo perché l'abbiamo tanto ricercati i reumatologici lo usano tantissimo nelle forme infiammatorie ci sono funzionano questi sono quelli più studiati cosa dice la letteratura c'era una cocrine che è datata nel 2005 dove c'erano solo 20 studi controllati era buona la qualità metodologica e cosa concludevano gli autori che era la glucosamina era sicura quanto il placebo e questo qui che di allora dei studi che hanno usato una preparazione corrotta a farm è la prima volta che la cocrine mette un'industria farmaceutica perché era il dosaggio giusto se noi gli diamo la glucosamina tutti noi abbiamo cominciato a darla poi gli hanno hanno fatto preparati i galenici in farmacia che costavano meno però non era quel dosaggio il concetto è questo bisogna dare quel dosaggio giusto e sappiamo che introducono però ce ne sono di più recenti del 2013 dove questi sono i lavori però vediamo cosa dicono le conclusioni la glucosamina e i conditini solfato hanno mostrato in vitro promettenti proprietà ed effetti sebbene il loro effetto sia ben documentato la capacità di modificare i danni strutturali dei tessuti lesionati utilizzati da studi condotti su modelli animali e sull'uomo cioè non c'è molta corrispondenza per quello che si è avuto in vivo in vitro e poi c'è un'altra cosa questi studi sono stati fatti per brevi periodi l'artrosi è una cosa che va curata per lunghi periodi poi per quanto tempo lo facciamo quando facciamo gli step non c'è una codifica su questo anche se nella pratica clinica di ognuno di noi qualche risultato l'hanno avuto i pazienti vedendo questo tipo di studi clinici sull'acido iauronico 76 studi clinici controllati questa classe di farmaci sta considerata per ampio consenso efficace e sicura e impiegata nella gonartrosi però questa sistematica del 2006 qual era il commento l'acido iauronico è sintetizzato dai sinovisibili la molecola più igroscopica del corpo umano garantisce l'attività di filtro della membrana sinoviale a proprietà di controprotezione quindi rubrificazione nell'artrosi si ha riduzione del peso molecolare dell'acido iauronico praticamente migliora un po' il liquido sinoviale detto in parole povere poi c'è quest'altra cosa plasma ricco di piastrine è vero i rizzoli l'avete provato è un'altra possibilità e l'altra è quella oltre a la terapia di visco-suppresentazione io le ho messe così per certe due cioè tra acido iauronico condrotite e piastrine hanno lo stesso risultato cioè dal punto di vista clinico sul dolore il problema è che tutti però dicono che abbiamo i migliori risultati nell'intervenire precocemente e questo io penso che è ovvio perché se c'è un problema di tipo meccanico c'è poco da fare visco-supplementazione e questa nel 2015 una consenna statement sulla visco-supplementazione e sette esperti europei di cui migliore che il reumatologo deve fare bene i bratelli come italiano hanno raggiunto un accordo su questo il regime e il dosaggio devono essere supportati da prove di EBM la tecnica del cross-link permette di di prolungare il tempo di permanenza dell'articolazione dell'acido di Iaulone nell'articolazione è l'approccio migliore per iniettare con precisione del ginocchio e la via laterale a livello medio-patellare perché questo l'hanno detto i reumatologi allora un approccio di questo tipo se lo fai senza l'aiuto dell'eco eco-guidato è difficile quando l'articolazione non ha un versamento io faccio l'approccio anteriore come lo fanno sicuramente nell'articolazione ci arriviamo insomma però loro hanno fatto questo consenso ma ho avuto da dire perché anche in società scientifica dove facciamo la società scientifica di medicina generale quest'anno nel congresso a Firenze farà tre sedute sulle infiltrazioni interarticolari tutte eco-guidate allora se eco-guidate è un discorso altrimenti non ce la facciamo la visco-supplementazione può essere utile anche in fase avanzata di gonartrosi l'esperienza di chi effetto infiltrazione influisce col successo del trattamento la visco-supplemente infeliscono naturalmente gli uni dagli altri e questo rende difficile confrontare i diversi studi clinici da di loro i fattori predittivi sono ancora poco conosciuti il regime a singola iniezione deve essere effettuato solo con i prodotti approssimamente sviluppati a questo scopo che sono i grossi linkati adesso io non ho mai visto il costo insomma adesso solo due tre aceri su alcune cose appena uscite anche questo 2015 sulle altre articolazioni perché la visco-supplementazione era prevalentemente il ginocchio allora c'è questo studio che dice sulla visoartrosi l'acido iauronico è il beta-metasone e per andare vi dico solo i punti chiave i cortisonici in quanto antinfiammatori sono da prediligere nei casi di flocosi a differenza dell'acido iauronico che va utilizzato in un'attivazione asciutta l'acido iauronico porta a un miglioramento sintomatico più duraturo rispetto al beta-metasone l'acido iauronico è più efficace all'osteroide su funzionalità e dolore dei pazienti con sintomi più gravi io non ho molta esperienza e comincio a farla adesso anche sulla risoartrosi ho provato a farlo effettivamente con buoni risultati con l'artrosi infilazione superiore ad altri trattamenti allora l'impiego per trattare cioè delle piastrine del trattamento dell'ostartrosi sebbene promettente per alcuni aspetti presenta ancora molti elementi da chiarire molte sono ancora le questioni aperte in merito a modalità di preparazione come composizione della pappa di piastrine come quanto utilizzare rischi di sterilità a oggi i dati sembrano confermare che l'impiego di piastrine della guarnatrice sia il migliore risultato di una fase iniziale della malattia quello che dicevo ripeto lo stesso lavoro ripeto quello che avevo detto prima questo è quando per nove mesi di trattamento questo è uno studio fatto sui cross linkati gli acidi iauronici cross linkati permangono più a lungo nell'articolazione per questo sono utilizzati in monosomministrazione a differenza degli acidi iauronici lineari che richiedono da tre a cinque infiltrazioni per ciclo terapeutico beneficio di cross linkato sulla gonartrosi mantiene fino a nove mesi l'uso andrebbe incoraggiato come alternativa che avevano aggiunto agli analgesi georali voglio sapere poi dopo chiederei la vostra esperienza su questo insomma al di là del costo che veramente sono molto costosi il vantaggio di fare una puntura invece che tre quindi meno rischi di fare una cosa invasiva però io i risultati io l'ho provato più volte e poi perché è venuto il paziente che gli era stato suggerito questo l'aveva già anche comprato però io i risultati non ripeto ne faccio tantissimo ma perché avendo da quando riesco a farli apprezzi come dire di medicina di famiglia cioè nel senso che voi dovete sapere che il medico che mi dice già viene rimborsato per la prestazione cioè l'ASL ci paga la prestazione l'interarticolare infiltrazione come no a voi a voi come ma a noi mi dice no no si interarticolare scusa c'è l'accordo regionale che ormai c'è da 24 ma ma è successo se non ma no no allora così chiariamo se mi interessa cosa allora finché c'è ancora l'accordo regionale che è scaduto ma c'è è una prestazione di particolare impegno professionale infiltrazione intrarticolare codice G5 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 allora il problema è che siccome se riusciamo a fare a prezzo politico l'acido iauronico io faccio una cosa che se c'è il medico legale dice che non lo potrei fare ma io lo compro direttamente quindi mi faccio solo rimborsare il prezzo di quanto posto che è poco cioè no rispetto a quello che sia allora è chiaro però insomma adesso comunque al di là di questo mi sono fatto un'esperienza personale con buoni risultati ecco cioè il fatto di ci sono persone e questo viene dal paziente agli otto mesi che più o meno questo dura 6-8 mesi o anche di più c'è anche chi viene dopo un anno a chiedermi di fare dottori facciamo il ciclo perché hanno trovato beneficio cioè nel senso proprio di miglioramento della loro direi che non c'è una regola che si possa standardizzare no assolutamente non c'è uno standard perché a volte bisogna vedere come la persona scusate se sono di però mi sembrava che questa cosa venisse allora con artrosi è pari al liquido sinoviale quello che dicevo prima che è migliore il liquido sinoviale infatti i punti chiave sono che l'acido diuronico è paragonabile al liquido sinoviale sano in termini di caratteristiche reologiche risposte alle sollecitazioni meccaniche in tutte le condizioni testate la capacità di lubrificazione dell'acido diuronico è risultata simile a quella del liquido sinoviale l'acido diuronico è in grado di svolgere un'azione lubrificante anche nelle quindi è proprio una visco supplementazione dell'osenza anche se ci sono studi sull'acuto che aumenta la fibrillazione della spalla insomma adesso ancora non molto quest'altro invece che è dovuto alla capsulita adesiva della spalla questo questo lavoro potuto mettere che è del 2014 dove dice che le infiltrazioni di acido diuronico sono efficaci anche nella capsulita adesiva per ottimizzare i risultati e ben associare la terapia infiltrativa ad un adeguato programma riabilitativo è chiaro che se questo non si riabilita la spalla non muoverà mai insomma i risultati di questo studio hanno evidenziato che la solidazione del trattamento farmacologico e della riabilitazione risolve il dolore e migliora la rigidità nel 96% dei pazienti io ho incominciato anche io a trattare la spalla non quella adesiva ma sai quella spalla che ormai dopo aver fatto tante cose comincia a avere risultati insomma riescono ad ampliare il loro movimento quindi poi anche questo è un altro studio visto che facciamo spalla caviglia e ginocchio c'è anche nella nella caviglia le infiltrazioni di acido iarononico costituiscono un trattamento efficace nello strattore della caviglia selezionare i pazienti in base agli indici prognostici favorevoli può dare i migliori risultati questo studio ha individuato lo stadio precoce di malattia una durata del dolore inferiore a un anno come frattori prognostici favorevoli cioè ci ha ammesso questo come allora adesso andiamo velocemente sulle indicazioni della terapia infiltrativa l'obiettivo è quello di ottenere la soppressione di riduzione del dolore ok il trattamento infiltrativo deve essere valutato considerato i vantaggi e i svantaggi e la possibile presenza di malattie concomitanti cioè questo lo dico perché le generalità che servono proprio per il medico anche quando individuare che cosa fare e come fare l'infiltrazione quindi questi sono i farmaci che vengono infiltrati le indicazioni le controindicazioni queste le patologie che possono venire trattate però quali sono le principali controindicazioni infezione articolare o peri articolari che può essere una controindicazione assoluta poi l'emartro le ritrime nella zona da infiltrare e cazze psoriasi nella zona da infiltrare queste sono quelle proprie cioè il diabetico qualcuno mi chiede il diabetico il diabetico lo possiamo fare cioè dobbiamo stare attenzione se facciamo il cortisone perché è infiammato diremo che potrà avere un innalzamento della glicemia per qualche giorno però più di questo non però se è da fare cioè bisogna sempre valutare col paziente e far rischi e benefici che può avere infezione è una contraddizione assoluta effettuare un altro centesi analizzare allora infezione articolare è assoluta effettuare un altro centesi solo in caso di negatività dell'esame potrà essere eseguita l'infiltrazione articolare allora il concetto è questo noi abbiamo grossi problemi non lo analizzano nemmeno al pronto soccorso più il liquido osinoviale invece ci potrebbe dire tantissime cose la medicina in generale ha dei grossi problemi da quando c'è la prenotazione Q perché io fino a qualche anno fa telefonavo al laboratorio del Bellaria e dice guarda ti sto mandando perché deve arrivare in poche ore insomma qualcuno deve riceverlo per analizzarlo e ci dice tante cose a volte però è una prassi che si sta andando perdendo indicazione mobilizzazione post infiltrazione su questo io non sono tanto d'accordo anche se questa parola dicono che è quella di non mobilizzare in modo ovviamente o dopo perché dice che il liquido esce fuori ma insomma comunque possibili effetti collaterali atrofia cutanea ipopiglianizzazione aumento transito dei segni di flocosi necrosi asettica possibilità di azione sistemica del prodotto infiltrato è rara ma può succedere qualcuno che dice che si arrossa il viso a un flashing che però si autolimita e passa da solo intradermica periarticolare e intraticolare le infiltrazioni elevata concentrazione principattiva e diretto contatto con la parete lesionata ridotto rischio degli effetti collaterali sistemici ridurre il dolore infiammazione abbiamo già detto prodotto utilizzato accurato esame fisico dell'articolazione cioè è importante guardare come l'articolazione perché adeguata osservazione dei radiogrammi conoscenza di anatomia normale locale per evitare lesioni delle strutture cartiragine e vasco l'anatomia che ci ha fatto una bellissima presentazione il collega è importante saperlo per vedere dove entrare come farci quindi queste sono le ora il materiale richiesto per la puntura soluzione di povidone e garze per anestetico locale aghi questo è il calibro le siringhe e guanti pinze per il cambio degli aghi delle siringhe contenitori per la raccolta questo vi ho fatto una foto di quello che bisognerebbe avere ma insomma nell'ambulatore medicina generale serve molto meno di questo lo dico come lo diceva Hollander anni fa cioè nel senso che lui non aveva mai avuto controindicazione effetti collaterali bastava avere minime precauzioni dal punto di vista disinfettare la cute disinfettare il cappuccio del farm quando presente cambiare l'ago dopo aver aspirato il farm rimuoverla queste sono cose che voi sapete però soprattutto non guidare l'ago con il dito non parlare eh che a volte il parlare perché abbiamo anche a cui spiegare meglio sarebbe meglio nonno Hollander cosa diceva anche che la sua esperienza non ha mai usato l'anestesia quindi io l'anestetico cioè l'anestetico insieme non lo uso quasi mai e bisogna e dice ed è raccomandato l'essere vaccinati per l'epatite B soprattutto perché eseguire sempre l'artrocenza evacuativa quando è presente il versamento articolare quindi concludendo la terapia infiltrativa è una procedura di semplice esecuzione se correttamente eseguita da bassa incidenza effetti indesiderati nel coltempo utile i fini diagnostici e altrocentesi i risultati ormai consolidati hanno fatto inserire la terapia in tanti articolari nei protocolli terapici e società italiane di scientifici reumatologia e ottopedia la terapia infiltrativa è una procedura sicura e efficace se si seguono le corrette indicazioni allora queste ve le salto io le avevo messo se qualcuno ha curiosità che sarebbe la mesoterapia che è una possibilità soprattutto se è un problema di infiammazione tendinea noi non facciamo un'infiltrazione sul tendine soprattutto ma usiamo prodotti antinfiammatori paratendine e sottocutani con buonissimi risultati quindi il medico di fronte a un paziente artrosico non deve cedere all'automatismo alla noia cercando di rifiutare e rivalutare periodicamente la situazione l'idea di inerottabilità colpisce forse più spesso il medico che il paziente perché non dedicare un tempo congruo al paziente artrosico come si fa per il diabetico l'iperteso il tempo dedicato al paziente consente di analizzare la strategia terapeutica più opportuna di comprendere il vissuto di malattia del paziente e la sua qualità di vita il medico sottostima il grado di disabilità ansia e depressione nel paziente artrosico un bel lavoro di member del 2000 dice che il medico generale sottostima soprattutto l'ansia e l'isabilità di questi pazienti ascoltare e gestire il paziente serve a rompere i binomi artrosi terapia farmacologica sintomatica discutere di altre strategie importanti controllo obesità sovappeso attività fisica adeguata evitare posture forzate o impropri e vi ringrazio per l'attenzione con una foto di salento che domenica era così grazie All this path, all this right Round you fortune, mother and child Only if I'm so tender in my Sleepy, I won't leave me